Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese Oggi siamo alla Feltrinelli di Pavia per questa seconda tappa del tour pavese di Antonio Mocciola Per la presentazione del libro Le belle addormentate di cui abbiamo parlato già in precedenza E lo abbiamo sentito telefonicamente Antonio adesso invece qua con noi Buongiorno Antonio Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi Com'è che è andata questa esperienza inoltre a Pavia e poi a Pavia città? A Voghera, una risposta clamorosa Non mi aspettavo È vero che non puoi mai prevedere quando fai un eventino, un evento eccetera È sempre tutto, dipende cosa c'è contemporaneamente Però Voghera è andata benissimo e sono molto felice che ci siano associazioni culturali che funzionano come Voghera è Davvero palpabile, notevole per la tematica di questo libro Secondo te cos'è che colpisce così tanto le persone? Ancora prima di leggere il libro si interessano proprio all'argomento? Sì è vero, c'è forse un senso di colpa latente nei confronti di quello che noi abbiamo a portata di mano e che non amiamo abbastanza Che è questa Italia sbagliata, che non ha saputo adeguarsi al nuovo millennio e da cui veniamo perché veniamo sempre da qualche altra parte Siamo nati lì, ma è un caso, veniamo, i nonni sono sempre di qualche altro paese L'Italia si è spostata attraverso i propri paesi, si sono spostati anche i paesi Per cui alcuni sono abbandonati E questa cosa piace, piace il lato antropologico probabilmente, il lato geografico, il lato cronachistico Anche come curiosità che io racconto nel libro cercando di rendere tutto molto lieve Perché in realtà parliamo di tragedie, quasi sempre ci sono dei morti, terremoti, frane, alluvioni Però se piace, piace, piace soprattutto perché è un'Italia che non conosciamo E quindi c'è un senso dell'inedito e del particolare che nelle guide e tantomeno nei testi di scuola non troviamo Tu durante i due incontri a cui ho avuto modo di partecipare Hai raccontato di come potremmo risvegliare queste belle addormentate Oggi in realtà il pubblico di Feltrinelli, molto attento devo dire Ti ha anche fatto notare però che bisognerebbe avere non soltanto una volontà di risvegliarle Ma anche di trovare quel rispetto nei confronti di quelle persone che lì hanno abitato Che sono morte, per esempio in situazioni di calamità naturali Come ti sei comportato in tal merito per ciò che riguarda il contenuto del libro? Lasciando una certa libertà al viaggiatore Se c'è una perizia nello scrivere è quello di mettersi un po' fuori dalla storia E lasciare che tutto quello che venga scritto venga interpretato in base alle sensibilità di ognuno di noi Quindi dobbiamo essere, provare ad essere, narratori un po' neutrali e un po' lirici Un po' leggeri e un po' profondi Ed è una ricetta difficilissima da imbastire Per cui ognuno può leggere come vuole e può interpretare come vuole le parole E soprattutto i luoghi Ognuno ci mette la propria anima Visto che non c'è nessuno in questi posti, ci sei solo tu Sei tu amplificato Quindi tutto quello che vivi dentro di te in quel momento della tua vita Lo amplifichi nel luogo che è il set della tua personalità E quindi a maggior ragione un libro che descrive questi luoghi deve rispettare l'occhio del lettore Perché il lettore deve impegnarsi a visitare il luogo Non con il cucchiaino delle guide che ti dicono dove andare, dove mangiare, dove dormire e dove spendere Ma mettendoci la propria ambizione ad essere finalmente cittadino E cittadini siamo nei posti non abitati perché si esalta il senso dell'appartenenza Le Belle Addormentate è in vendita nelle librerie, anche su Amazon, ha avuto un grandissimo successo Te lo aspettavi? No Si dice sempre, ah non me l'aspettavo, fanno vedere che si sorprendono Noi veramente non ce l'aspettavamo, di fatti abbiamo poche copie Abbiamo stampato solo 4.000 copie e sono andate tutte fuori Quindi non ce l'aspettavamo Siamo contenti Abbiamo capito che c'è un altro turismo possibile Poi è una parola bellissima, il tour dal viaggio francese eccetera Ma in realtà il turista è sempre distratto Parliamo di viaggiatori E c'è un'Italia possibile che ci aspetta dietro l'angolo a 3-4 curve da casa nostra Io sono andato in tutte e 20 le regioni italiane Ogni regione ha il suo paese abbandonato, almeno uno In realtà sono 82 nel libro ma 600 in generale Amiamoli, rispettiamoli, visitiamoli Viviamoli Perché aspettano solo noi e perché non saranno eterni Fra 20 anni, se nessuno se ne cura, resteranno inghiottiti dalla vegetazione Che cresce attorno a loro Se lasci una pianta a se stessa, la pianta diventa foresta e poi muore Amiamoli, visitiamoli e nel frattempo leggiamo anche le belle addormentate Grazie mille Antonio Grazie a voi Grazie a voi